Nell'era del metaverso l'amore ai tempi delle app non si limita alle emoticon né ai messaggi vocali. Basta attraversare via Rosso di San Secondo a Caltanissetta, alzare lo sguardo e vedere degli striscioni di ragazzi innamorati che dichiarano i propri sentimenti. Proprio come facevano le vecchie generazioni dei boomer, gli adulti di oggi. L'amore si scrive magari su un telo di cotone bianco con una bomboletta spray per dimostrare dolcemente e in modo romantico i sentimenti e l'affetto. Vecchi riti, come quelli degli striscioni d'amore, nel mese di San Valentino scaldano il cuore nonostante il freddo dei giorni della merla. Poco lontano dal ponte, cuori e frasi sui muri dei palazzi a memoria delle vittime di Cupido. E se è vero che, come diceva Shakespeare, siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, l'amore sognato e desiderato vince ancora su tutto. Così proprio come si faceva venti anni fa, anche nel 2022 si disegnano cuori, proprio sotto la via intitolata Petrarca, poeta che cantò dell'amore impossibile per la sua amata Laura, i cui versi hanno reso eterno ciò che sentiva.